I trofei dell'Alessandria Calcio, come era stato annunciato la settimana scorsa, sono da oggi, da questo momento, consegnati alla custodia di Museo Grigio. Sergio Giovannelli, raccontiamo che trofei e che materiale viene consegnato dalla proprietà, da Andrea Molinaro e da Giulio Maione a Museo Grigio. Abbiamo ricevuto tutte le coppe, o quantomeno buona parte delle coppe conquistate dall'Alessandria in questi anni e soprattutto quelle più importanti, ossia a partire in ordine cronologico quella della vittoria dei playoff di Serie B, quella della Coppa Italia insieme ai professionisti, quella della vittoria nel campionato di Serie C2 e quella della vittoria nel campionato di Serie D, c'è praticamente tutti i campionati vinti dall'Alessandria nel corso della sua storia, oltre ad un paio di altre cose importanti come la vittoria della Coppa Disciplina del 1950, quella della vittoria del campionato Junioris del 1949 e infine la meritoria stella d'argento all'ordine esportivo conferita sul tempo dal Coni all'Alessandria Calcio. Quindi il pensiero di museo nei confronti della proprietà qual è? Beh, certamente quello di ringraziamento e di gratitudine nei confronti dei dirigenti e poi senti Molinero e Dottor Maione che hanno consegnato a noi in custodia, naturalmente non in proprietà, ma in custodia questi trofei che ci permetteranno nel momento in cui riusciremo a finalmente realizzare il nostro sogno di mettere a disposizione di chiunque la storia visiva, quindi i trofei vinti dall'Alessandria nel corso dei suoi 110 anni di storia. Insomma, Ciro Cassonetti, questo è l'altro obiettivo, adesso voi siete custodi di questi pezzi di storia perché dietro ogni trofeo c'è trofeo, foto, standardo, c'è un pezzo della storia del cuore di Alessandria, calcio con un sogno, con la speranza che tutto questo sia presto e a disposizione degli appassionati, di tutti, ovviamente dei tifosi ma di tutti gli appassionati perché qui c'è la storia del calcio italiano. Esatto, mi collego a quello che ha detto Sergio prima, il nostro sogno è quello finalmente di avere uno spazio fisico che rimanga nel tempo e questo diciamo che potrebbe essere il primo passaggio importante per poterlo avere. Quindi ecco, a custodia ufficiali della storia dell'Alessandria nel calcio con i loro trofei più tutti i cimeli che abbiamo raccolto negli anni, io, Sergio, Mauro, Gianni, Presidente, Vede, eccetera, eccetera sperando appunto di avere questo spazio in cui poter esporre tutto e renderli e dare a disposizione della città di tutti i tifosi grigi. Ecco, questo è il nostro obiettivo e speriamo adesso con anche i trofei della società di vederlo sempre più vicino e realizzarlo.